Assolvete Giuseppe Fornasari, ex presidente, l'ultimo della sua storia di Banca Etruria, accusato di bancarotta fraudolenta. La richiesta dell'avvocato difensore Antonio Davirro è arrivata dopo circa tre ore di arringa. Si va dunque verso la conclusione dell'udienza preliminare per i quattro imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. La data è il 31 di gennaio, in quel giorno il giudice Giampiero Borraccia pronuncerà la sua decisione sui rinvii a giudizio. Ma quella del 13 dicembre è stata anche una giornata importante per l'altro grande procedimento dedicato a Banca Etruria, quello che vede imputati per truffa e concorso in truffa decine tra dirigenti, impiegati e funzionari dell'istituto di credito. In aula alcuni colleghi di due imputati avrebbero sostanzialmente confermato come la vendita dei titoli subordinati sia stata a prassi degli istituti di credito in generale, citando la situazione attuale di altre banche. Per questo filone il 21 gennaio ci sarà la requisitoria del PM Iulia Maggiore, il 31 sono previste le arringhe della difesa, la sentenza è attesa per il 21 di marzo.